grazie mania grazie due volte perché su entrambi i gol della juventus lui esce a vuoto e spalanca la porta ai bianconeri che vincono il derby più per incapacità ormai cronica del toro a vincerne uno che per effettivi meriti il primo tempo della juventus anche oggi è stato imbarazzante soporifero indegno di un derby della mole perché la storia insegna che il toro si difende come può cerca di contrattaccare con quello appunto che è il famigerato cuore granata con il sangue agli occhi col coltello tra i denti ma chi fa la partita è la juventus e prova a vincerla oggi nel primo tempo è successo l'esatto contrario il toro gestiva e faceva la partita la juventus non faceva niente poi ripeto due paperone di milinkovic savic in rapida successione ad inizio ripresa spianano la strada verso la vittoria ad allegri che si becca cinque e mezzo perché ripeto fosse stato per lui non non avrebbe portato a casa probabilmente questo questo derby la juve vince una partita che globalmente poi alla fine merita ma ripeto più per incapacità del torino che era partito bene ma di fatto non ha quasi mai tirato in porta che per effettivi meriti cinque allocatelli che il pallone continuo a darlo sempre indietro mai in avanti evidentemente avrebbe bisogno che qualcuno gli spiegasse qual è lo scopo di questo gioco cioè del calcio sette a gatti che segna il primo gol fa un'ottima partita difensiva sette a bremer che stravince il duello con con duvan zapata che lontano da bergamo e da gasperini è tornato il giocatore inutile che era sempre stato poi sei a costici insomma tutto sommato non fa non fa male e sette al subentrato milik che cala il 2 a 0 e in generale la juve gioca meglio con milik in campo menzione d'onore per il diz che gioca 6 7 minuti ma fa vedere di avere tanta tanta personalità e tanta classe lui avrebbe dovuto giocare dal primo minuto a supporto di ken non l'inutile miretti che si becca 22 miretti basta basta grazie a tutti